Ancora una donazione di organi all'ospedale San Donato di Arezzo, è la seconda a distanza di pochi giorni. Il primo espianto multiorgano è stato effettuato nella notte di Natale e proprio la stessa notte Lorena Bucci, una 74enne di Lastra Signa, era stata colpita da emorragia celebrale. La donna si trovava in Casentino con la sua famiglia dove aveva festeggiato la vigilia. Era ricoverata in rianimazione al San Donato di Arezzo dalla notte di Natale ed è deceduta a mercoledì 28 dicembre. I figli, seppur addolorati per la perdita improvvisa della madre dopo un incontro con il personale del coordinamento donazione tra pianto e il medico del reparto di anestesia e rianimazione, hanno in comune accordo deciso di donare gli organi della propria cara. Come sempre è scattata la macchina organizzativa che prevede uno stretto contatto tra il centro di riferimento regionale e il coordinamento donazione tra pianto, sede in prelievo. Numerosi operatori sono stati coinvolti dagli operatori della rianimazione al blocco operatorio. Quindi nella notte tra mercoledì e giovedì le equip di prelievo provenienti da Siene Padova hanno eseguito l'espianto di fegato, reni, corne e tessuti. Nella giornata di giovedì il fegato è stato trapiantato a Padova e i reni sono stati trapiantati su pazienti che sono nell'apposita lista di attesa a Siena.